Fine della corsa. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo e il Diavolo, dunque, non giocherà il prossimo campionato di Lega Pro. La sentenza è avversa in toto, ossia non è stata accolta nemmeno la richiesta subordinata a quella che voleva il Diavolo iscritto al torneo di Serie D. Svincolo dei giocatori pressoché immediato è un futuro. A questo punto tutto da disegnare e non sarà affatto semplice. Perché che la decisione fosse nell'area lo si era capito già ieri in tarda serata, ma nessuno voleva probabilmente rassegnarsi a quello che è sempre sembrato. Un destino segnato. Troppe le criticità. È impossibile pensare di ribaltarle solo dinanzi alla giustizia amministrativa dopo i pareri molto duri degli organi di giustizia sportiva. I profili di censura attinenti, si legge nel dispositivo al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria della società ricorrente, non appaiono fondati. Nel caso di specie, gli elementi fattuali addotti non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore, rilevanti ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della società e come tali non estranea la medesima, e dall'altro non comportavano l'impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del manuale delle licenze. Inoltre, non può essere accolta la pretesa di ammissione della ricorrente al campionato di Serie D, previa declaratoria di illegittimità dell'articolo 52,10 delle NOIF, per carenza di attualità dell'interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura. Insomma, una sconfitta su tutti i fronti, col primo cittadino Gianguido D'Alberto, che dopo aver appreso con rammarico la decisione del Tar, si è immediatamente attivato per governare, per quanto di sua competenza, l'intero processo e garantire continuità al calcio terramano. Inoltre, il sindaco annuncia come la giornata di oggi sarà dedicata a valutare gli effetti della sentenza, confrontarsi con i legali della società e intensificare l'interlocuzione con la Federcalcio per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con la lettera inviata allo stesso presidente Gravina per garantire l'iscrizione in sovrannumero della Teramo Calcio in Serie D. Una sconfitta bruciante però per la città, che perde il professionismo dopo un decennio. Lo fa nella maniera peggiore possibile, lottando senza avere troppe speranze. D'altronde, la sospensiva di qualche giorno fa aveva illuso in pochi. Quelli che credevano ad un approccio differente da parte della giustizia amministrativa, dimenticando che la ragione di quell'accoglimento era determinato soltanto dalla volontà di non pregiudicare una situazione pendente. Ora che la decisione invece è presa, ripartire in qualche modo, oltre che una necessità, diventa un obbligo morale, prima che calcistico, da quale serie? A questo punto la parola passa al sindaco d'Alberto e alla Federcalcio. Grazie.